Tarifazione Sosta Blu a pagamento a Fano da febbraio 2020 si cambia. Non saranno solo i ritocchi tarifari negli stalli attuali ma ci sarà una trasformazione anche in altre zone. Dopo il cambio da Sosta Bianca a Sosta Blu nel parcheggio in Via della Giustizia, nel nuovo riassetto un altro parcheggio adiacente al centro diventerà blu, quello dello Sferisterio, ex carri di Carnevale. Altre sì, in linea con altre città limitrofe come Pesero, Senigallia e a sud Civitanova e San Benedetto, le tarifazioni subiranno adeguamenti orari. In centro storico non aumenteranno le soste a pagamento, quindi rimarranno gli stessi stalli, fatto eccezione del parcheggio di Sferisterio. Abbiamo suddiviso il centro storico in quattro zone, A, B, C, D. Ci saranno dei piccoli adeguamenti di tariffa, quindi partirà da 0,5 centesimi a 20 centesimi in più, dalla zona D, quindi alla zona A. La zona A è quella più di pregio, più vicina ai servizi, più vicina al centro storico, quindi si partirà crescendo da 1,20 euro il parcheggio nella zona A, fino a 80 centesimi nella zona D. Un'altra zona che subirà una radicale trasformazione è la zona mare della Sassonia, che diventerà pagamento dal 1 giugno al 15 settembre di ogni anno, per poi ritornare libera per il resto dell'anno solare. Ci sarà un'altra zona A, quindi a una tariffa di 1,20 euro. Ovviamente per i turisti è stata pensata anche della scontistica, quindi se ci staranno più ore, 3 ore, 3,60 euro, 8 ore, 8 euro, 10 ore, 10 euro, cioè l'intera giornata 10 euro. La fascia usuale sarà dalle 8 alle 20 e in questo caso abbiamo il Viale Adriatico a pagamento fino alla zona del porto. Avremo un grosso contenitore comunque che rimarrà gratuito, che sarà il parcheggio quello sul retro della stazione e anche dello Sport Park e anche via Dante Alighieri. Questo processo di trasformazione, oltre ad essere sostanziale, con nuove entrate, è anche culturale in linea con gli indirizzi di sostenibilità dell'amministrazione, che comporta anche contenuti però migliorativi. Dal 2021 dobbiamo essere bravi a spendere queste risorse in più per la maggior fruizione del centro storico e del mare. Altro punto cruciale è il foro boario, che presto vedrà una nuova veste. Sì, nel prossimo anno, nel 2020, abbiamo intenzione appunto di asfaltare interamente il foro boario e quindi cercare di ricavare il maggior numero possibile di stagli. Adesso il foro boario è, come sappiamo, un po' dismesso, un po' poco usato, nel senso che è molto utilizzato, però le macchine sono disordinate al suo interno. Quindi, riqualificandolo e riorganizzandolo, si possono cercare di avere più posti e quindi comunque aumentare i parcheggi a servizio del centro storico. E naturalmente rimarranno gratuiti, quindi sosta bianca dentro il foro boario. Grazie. Grazie. Grazie.